Ciao ragazze, oggi video in collaborazione con un gruppo di ragazze, parleremo di Summer Tag ideato da Lovely Niles e Angie The Candy Shop. Questo tag divide in tre categorie, i beauty, i fashion e il lifestyle. Allora iniziamo con le domande beauty. A quale prodotto di makeup non rinunci in estate? Allora al lucidalabbra. Lo smalto estivo per eccellente, il rosa. Mai usato l'abbronzante? Con quale risultato? No, non l'ho mai usato, preferisco un'abbronzatura naturale. Prodotto rimandato a settembre, il fondotinta liquido. Per la base fondo liquido BB cream o polvere naturale? La polvere naturale. Acconciatura anti-afa? Allora una coda alta oppure uno chiffon. Poi la categoria fashion. Outfit ideale per vincere la calura? Allora un vestitino molto leggero. Outfit per una festa in spiaggia? Da longini con una canotta? Occhiali da sole 2015? Questo modello qua, tipo così. Poi scarpe, zeppe, sandali alti o flat? preferisco il flat. Stampa di stagione floreale, animaliere o text? Allora floreale e text. Poi passiamo al lifestyle. Qual è il tuo desiderio se vedessi una stella cadente nella notte di San Lorenzo? Visto che è un desiderio non lo dico. Con quale tipo da spiaggia vorresti una vendura estiva breve ma intensa? Allora con una persona divertente che mi fa ridere. La cosa più fastidiosa dell'estate? Allora il caldo a foso e il zanzare. A colazione una bevanda calda o qualcosa di fresco? Qualcosa di fresco? Il cocktail da gustare per l'aperitivo estivo? Allora i cocktail alla frutta. Tacca tre persone? Allora tacco Rebecca, Cattaneo, Vlog e Makeup. Poi Rosa Rita e Milk Coffee 1973. Se non l'avete fatto fate questo tag che è molto carico e divertente. Ringrazio le due ragazze che mi hanno fatto fare questo tag e vi mando un bacio. Ciao!